Parte oggi la nuova stagione del Delfino, squadra in ritiro a Palena fino al 27 luglio, prima seduta nel pomeriggio di oggi. Sono stati convocati 26 giocatori e tutti i nomi li trovate sul sito internet di Reteotto all'indirizzo www.reteotto.it. Nella lista non figura Gennaro Scognamiglio in procinto di firmare con l'Avellino e i nuovi sono il terzino Zappella, l'attaccante De Marchi. Parecchi giovani provenienti dalla formazione Primavera, Longobardi, Belloni, Manuta, Alchiarella, Oglia, Mercato, Sorrentino, Veroli, Mercato. Ieri a Milano vertice col Monza per Gliozzi e Armellino, sembra perdere quota ad Erisio e in difesa il club punta su Scognamiglio dell'Alessandria. Al momento Gliozzi in uscita dal Monza resta una pista complicata perché l'ingaggio fuori budget ma non è affatto tramontata. I due club si riaggiorneranno all'inizio della prossima settimana. Discorso diverso per il 32enne Marco Armellino che Auteri conosce dai tempi di Matera, stagione 2016-17. L'esperto centrocampista che ha vinto due campionati di C con Lecce e Monza è assistito da Tullio Tinti che è lo stesso agente del danese Sorensen. Il gradimento di Armellino non è in discussione e quindi le parti sono già al lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.